Benvenuti a questo appuntamento, mi fa piacere vedere soprattutto dei ragazzi perché il film è per loro, è un film di ragazzi, è un film per i ragazzi, oltre ovviamente ai nostri ospiti ci sono anche alcuni spettatori di molto giovani e quindi questo mi fa molto piacere. Stasera vedremo un film documentario che non ha un grosso valore cinematografico, ci tengo a specificarlo, ma un grosso valore dal punto di vista della testimonianza. È un film che tra l'altro dura un'ora e un quarto, quindi anche abbastanza breve, che fa una panoramica sui movimenti ambientalisti che sono nati in questi ultimi anni. Abbiamo il piacere di ospitare alcuni di questi movimenti qui con noi e che poi dopo saranno qui a parlare delle loro attività e delle tematiche che emergono appunto dal film che vedremo. Adesso li leggo un po' perché poi sono abbastanza persone, un po' di nomi. Abbiamo Extinction Rebellion di Milano e li troviamo qui, sono loro tre. I ribelli, sono Nicolas, Enrico e Raffaello. Poi abbiamo Fridays for Future di Monza, i ragazzi qua. Gaia, Filippo e Emi. Perfetto. Poi abbiamo a rappresentare le istituzioni territoriali, la vice sindaco, nonché assessore all'ambiente e all'ecologia, Gabriella Garatti. Poi c'è il consigliere Roberto Frigerio con una delega specifica, vero o no? Sbaglio? No, ok, perfetto. Poi ci dirai magari se hai voglia di qual è. Poi abbiamo dei rappresentanti del GAES Francesca Marotta di Villa Santa, il gruppo di acquisto ecosolidale e nello specifico poi c'è anche il presidente Enrico Montagnier e poi abbiamo Tuya Lab che è un'associazione di promozione sociale molto attiva sul territorio che porta avanti i progetti legati all'ambiente e alla cultura. Quindi diciamo che gli ospiti ci sono, alcuni spettatori anche, avrei preferito avere molti più giovani, però di questi ci dobbiamo accontentare e già tanto. Quindi buona visione e poi ci vediamo appunto per una chiacchierata con i nostri ospiti che è la parte poi importante della serata. Grazie mille. Eccoci qua. Allora, avrei pensato di suddividere la chiacchierata in due parti. Inizialmente con le due associazioni, ovvero Fridays for Future e Extinction Rebellion e poi a seguire invece la parte istituzionale territoriale, quindi l'assessore all'ecologia all'ambiente e poi qualcuno del GAES. Quindi invito sul palco due rappresentanti di Fridays for Future e poi qualcuno di Extinction Rebellion. Iniziamo con le presentazioni. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Gaia Sironi e sono un attivista del gruppo locale di Fridays for Future in Monza. Buonasera a tutti, io sono Nicolás Emanuele e sono un attivista di Extinction Rebellion di Milano. Vi dovete passare, esatto, io sono Filippo Gallavotti anche io attivista in Fridays in Monza. Io sono Amy Sanfilippo, anche io attivista di Fridays for Future in Monza. Bene, io direi di fare un applauso a loro che sono giovani ed è bello, avervi qui, quindi vi ringrazio personalmente. Allora, abbiamo visto i vostri fratelli maggiori, li possiamo chiamare così, cioè gli iniziatori delle vostre associazioni, i vostri movimenti, anzi perché non sono delle vere e proprie associazioni, ma sono dei movimenti che sono nati in questi ultimi anni, no? Da Greta Thunberg o Thunberi, a seconda della pronuncia, che appunto è stata la prima che ha iniziato a scioperare e da lì poi è nato il movimento di Fridays for Future, di cui voi fate parte. E niente, spiegateci un po' il perché voi avete iniziato ad aderire a questo movimento, da dove nasce questo vostro impegno e cosa fate nel concreto. L'abbiamo visto, lo leggiamo sui giornali, però sarebbe bello sentirlo da voi, insomma. Perfetto, grazie. Allora innanzitutto ti ringrazio per averci invitati a vedere questo docufilm, molto interessante. Come abbiamo detto prima, noi siamo tre attivisti del gruppo locale di Fridays for Future Monza. Fridays for Future, come avete avuto la possibilità di vedere, è un movimento globale. Dunque, il nostro movimento è nato essenzialmente nel 2019 e da allora ci impegniamo affinché la questione climatica venga posta al centro del dibattito pubblico a livello locale, ma non solo. A livello locale noi abbiamo tre principali rivendicazioni che ruotano intorno alle tematiche della mobilità sostenibile, dell'inquinamento dell'aria e del consumo di suolo. E poi proponiamo alle diverse amministrazioni comunali quella che viene chiamata DECA, ovvero la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, che comporta una serie di politiche, di decisioni che le amministrazioni comunali devono prendere per rendere le nostre realtà territoriali più sostenibili. Dunque, sicuramente le manifestazioni hanno per noi un ruolo davvero molto importante, sono un momento durante il quale possiamo far sentire le nostre voci, le nostre opinioni, le nostre idee, ma la lotta per la giustizia climatica è un impegno costante, un impegno quotidiano e proprio noi come gruppo locale, attraverso le assemblee pubbliche di sensibilizzazione e attraverso gli incontri che facciamo in piazza, cerchiamo di dare voce alla scienza in modo semplice, in modo efficace, affinché la questione climatica possa essere compresa da tante persone, soprattutto tra noi giovani, che siamo il futuro. Io volevo riprendere un attimo ciò che abbiamo sentito prima nel documentario. Greta diceva che erano in milioni a manifestare in occasione dello sciopero del novembre 2019, erano in 200.000 a Berlino, in oltre 100.000 a Londra, anche a Monza. A Monza eravamo 5.000, che forse in proporzione è anche una quantità maggiore di persone, esatto. L'attivismo è importantissimo anche nei gruppi locali ed è forse anche più faticoso organizzarlo nei gruppi locali e noi ci interfacciamo con queste difficoltà tutti i giorni nell'organizzazione dei nostri scioperi. Volevamo sottolineare comunque che non ci occupiamo solo di manifestazioni e scioperi, ma anche di avere un dialogo continuo e sempre aperto con le istituzioni politiche, con le coalizioni politiche, senza mai schierarci, ma cercando di portare al centro del dibattito la questione climatica e ambientale, che è importantissimo. Sempre riguardo le manifestazioni, siamo stati ad esempio a Milano in occasione dell'UpperCop, lì sì che siamo stati Marea, siamo stati 50.000 un primo giorno, 15.000 un secondo giorno, dopo lo sciopero del 24 settembre che c'era stato in tutta Italia. Avevamo come obiettivo comune, l'avete sentito durante il documentario, di fare spinta proprio sulla COP che c'è stata in questi giorni a Glasgow e sulla Pre-Cop che c'era a Milano, che erano una sorta di prenegoziati che ci sono stati proprio sul clima. L'obiettivo era quello di tenere l'aumento della temperatura sotto gli 1,5 gradi, ma purtroppo appunto nella bozza dei patti di Glasgow questo elemento non è stato inserito. Continueremo a fare quello locale, a fare pressione e niente, questo è il nostro compito. Bene, un applauso direi. Mi sembra doveroso, allora, nel senso che effettivamente come dicevi tu, fare attivismo in provincia è molto difficile. Coinvolgere le persone quando non si è in una grande città, in una grande capitale, eccetera, è sempre molto più difficile. Quindi tanto di cappello a voi che siete qua, che state parlando di fronte a una platea e quindi complimenti. Una cosa sola volevo chiedervi. Cosa ne pensate del risultati, non risultati della COP26? Subito così, bam, la bomba. Vuoi fare una domanda, Raffaello? Sì, direi che tanto siamo tre amici, no? Aspetta, no, allora, una regola sola è quella di utilizzare il microfono perché sennò nella registrazione non si sente la tua voce. Grazie. Hai detto che voi fate pressione verso le realtà politiche. Mi fai un esempio? Sì, siamo andati a parlare recentemente in quest'ultimo mese col sindaco di Monza e abbiamo riportato le nostre rimendicazioni principali che sono il consumo del suolo, l'inquinamento dell'aria e la mobilità sostenibile che riguardano in primo luogo la nostra città, ultima nelle classifiche proprio della qualità dell'aria. Ma non solo, abbiamo parlato anche con altre forze politiche, altri partiti anche adesso all'opposizione e cercheremo di portare nei tavoli di lavoro, di tutti gli schieramenti, le nostre rimendicazioni perché appunto il tema ambientale venga posto al centro del dibattito e quindi questo, siamo sempre in contatto comunque. Allora, io ritorno con la mia domanda, sì, ci spiega, allora nel senso probabilmente abbiamo seguito tutti, no? La COP26 di Glasgow, questo continuo, ma si dice, emerge molto chiaramente dal documentario che basta parlare, bisogna passare ai fatti perché se no, tra due anni, tra tre anni, alla COP72, anzi, alla fine si dice anche smettiamola con questi summit che non servono assolutamente a nulla se non a incrementare ancora le emissioni di CO2, a inquinare, a spostare persone e a spendere i soldi inutilmente. Ecco, raccontateci un po' della COP26 perché sicuramente l'avrete seguita molto meglio rispetto a noi e ai risultati o meglio ai non risultati. Allora, sì, la COP26 era decisiva, ce l'ha detto anche la ricerca scientifica dell'ONU e in particolare l'IPCC, che è questo report scientifico che appunto ha redatto l'ONU e era l'ultima occasione, una delle ultime occasioni per provare a fare delle azioni concrete. Uno dei grandi slogan degli attivisti che erano fuori dai summit a Glasgow era no more COP27, quindi non ci deve essere una COP27 perché questa deve essere la COP decisiva e invece si parla già di COP28, quindi possiamo capire quanto in realtà si siano fatti dei passi avanti ma non dei passi decisivi. Si è parlato di mantenere sotto una certa soglia l'aumento della temperatura ma non sotto gli 1,5 gradi, si è parlato di uscire dal fossile ma senza nessun accordo vincolante. Queste cose erano importanti e nell'ultima bozza non sono entrati. Forse non sono rientrati, forse l'unica cosa positiva è stata nella conferenza stappa degli ultimi giorni un accordo fra Cina e Stati Uniti che sono le due potenze forse maggiori che c'erano alla COP26 che appunto si impegnavano a ridurre il riscaldamento climatico, però anche lì non c'era nulla di vincolante. C'erano degli attivisti di Fridays Italia che hanno iniziato questo progetto che si chiama Destinazione COP26 appunto per tenere informati. Noi ci siamo tenuti informati tramite la nostra rete di attivisti, però potete informarvi tutti. Esatto, poi aggiungo una piccola cosa, puro scopo informativo. Noi come gruppo locale abbiamo un nostro piccolo podcast e tra due giorni uscirà una puntata sulle maggiori piattaforme appunto come per esempio Spotify eccetera eccetera, nella quale abbiamo parlato proprio della COP26, l'abbiamo fatta la scorsa settimana e abbiamo cercato di fare un pochino il punto della situazione sulle bozze dei trattati che erano usciti settimana scorsa, quindi se vi va per saperne qualcosa in più uscirà questa puntata. Qualche domanda? Passiamo a Extinction Rebellion. Faccio un piccolo intervento semplicemente, grazie. Se non mi spazio mi alzo. Sì, uso il microfono. Certamente, certamente. Bene, vorrei iniziare da una cosa che secondo me si è trattata poco in questo corto perché appunto era un film sull'attivismo, però secondo me quando ci attiviamo è fondamentale ricordarci sempre perché ci attiviamo. E ora vorrei citare appunto, riguardo a questo, un romanzo che sto leggendo ora di Olivia E. Butler. È una climate fiction, ossia un romanzo che tenta di immaginare, che non è così difficile con tutta la ricerca scientifica, cosa ci aspetta se non agiamo per il clima, cosa ci aspetta se superiamo le soglie dei due gradi, dei tre gradi e così via. Vi do solo un'immagine appunto. Si trova negli USA. Il paese è collassato. Non c'è sicurezza. Gli abitanti di questi paesi, che è raccontato da una ragazzina, devono vivere intorno a un muro e quando escono rischiano sempre di essere uccisi perché non c'è lavoro, non c'è acqua. Se una casa va a fuoco non si spegne quella casa, la si lascia bruciare, non ci si lava. Non c'è farina, ma c'è di tutto, diciamo. E io quando mi attivo, quando voglio fare qualcosa per il pianeta, è perché voglio fare qualcosa per le persone, perché noi ci basiamo su questo appunto, sul pianeta. E sì, però penso che tutti ce ne siamo accorti che è un'emergenza molto forte, ma non bisogna scordarci che lo sarà sempre di più. È ovvio che nasca un senso di impotenza da questo, perché come ho detto, il clima è una cosa così enorme, così che ci tocca a tutti, che l'impotenza per noi piccoli, per noi piccoli umani, semplici umani, è una cosa che è spontanea. Però qui nascono i movimenti, perché noi da soli appunto non abbiamo questa potenza, ma nei movimenti, nell'unirci insieme, è lì che nasce tutto, che sia Friday, SXR, tutti quelli che abbiamo visto, non importa, il fatto è attivarsi, perché noi siamo gocce d'acqua, non puoi chiedere a una goccia d'acqua di essere oceano e di cambiare il mondo, ma puoi chiedere a tante gocce d'acqua di unirsi, è lì, è lì, diventa oceano. Fatto sta, giusto per accennarvi, se ho ancora un po' di tempo, per accennarvi a cosa è XR, a me piace dire tantissimo, piace far notare tantissimo la sua inclusività, è bello anche definirlo, come certi lo definiscono, anche nel libro che trovate qua fuori, un movimento dei movimenti, proprio per la sua organizzazione. Questo si estrinseca nelle sue azioni, perché cosa fa XR? Beh, fa delle azioni più artistiche, come avete visto, i Red Rebels, che sono delle persone vestite di rosso, che camminano in un funerario. Da un'azione più artistica ha blocchi di città, blocchi stradali, azioni di disobbedienza civile, forti, con grande impatto, e questa varietà è quella in cui si muove XR. e quindi c'è posto per tutti, diciamo. Persone che vogliono esprimere più un loro lato artistico, più colpire su quel lato e vogliono rischiare di meno, in un certo senso, oppure persone che vogliono mettere tutto in gioco, perché la sfida è importante. e sì, vorrei chiudere con questa brevissima poesia che ho fatto. La sfida che dobbiamo fare, la sfida per cui dobbiamo combattere, deve svilupparsi in un'arena di intercomprensione, con un'armatura di abbracci, è un'arma che ha la forma di tanti mani unite. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo capito che voi di Extinction Rebellion siete molto più teatrali, questo è sicuro. Sono decisamente, colpiscono, ma si vede anche dal documentario, appunto, i famosi funerali della madre Terra. Allora, attivarsi, è ovvio, nel senso che mi sembra che sia la parola d'ordine, attivarsi, quello di fare rete, di fare gruppo, di lavorare insieme, affinché finalmente ci sia una svolta, perché non abbiamo più tempo, now, cioè, il film si chiama in questo modo, o adesso mai più, anzi, c'è chi dice che sia già troppo tardi, no, per riuscire a evitare la catastrofe. Bene, che consigli ci date a noi, vecchi, perché oramai i ragazzi sono andati, siamo dei vecchi, e quindi che consigli ci date? Attivarsi? Sì, sì, ma nello specifico, a me piace essere molto concreto. Nello specifico, domani c'è una presentazione a Milano di Extinction Rebellion alla Camera del Non Lavoro, ma lo trovate anche sul nostro sito. Seguite le nostre pagine, informatevi se c'è qualcosa nella vostra zona, e parlatene con le persone, mettete il problema al centro della vostra vita, anche sullo sfondo, però, esiste, possiamo fare qualcosa. Quindi sì, informatevi, tenetevi attivo. Sì, sì, anche io volevo dire questo, parlatene, manifestate, scendete in piazza anche voi con noi, e cercate sempre di porre l'attenzione a questo tema, che non può essere trascurato e non può essere tralasciato. Volevo chiedervi, l'impatto della pandemia su questa vostra attività, che era praticamente iniziata nel 2019, quindi, questi movimenti, che cosa ha provocato all'interno di questi movimenti? Allora, premessa, io sono entrata attivamente nel gruppo locale di Fridays for Future l'anno scorso, durante proprio la pandemia, e anche dai racconti delle persone che facevano parte del nostro gruppo locale, prima di me, prima di Filippo e prima di Emy, la cosa che è sicuramente un pensiero comune è il fatto che la pandemia ha forse da un lato tolto un po' alle persone la voglia di scendere in piazza, nel senso, il primo ricordo grande che io ho collegato a Fridays è stato lo sciopero del settembre del 2019, e lì eravamo tantissime persone in piazza, eravamo, come diceva prima Filippo, 5.000, se non addirittura 7.000. Mentre in questi ultimi mesi, sicuramente a causa della pandemia, siamo molti meno, e la ripresa, quindi il ritornare a fare le nostre azioni, il ritornare in piazza insieme, è sempre più complicato. Però noi cerchiamo davvero costantemente di coinvolgere soprattutto le forze giovani, i nostri coetanei, perché davvero non abbiamo più tempo, e nonostante la pandemia abbia avuto sicuramente, stia avendo ancora un impatto molto grande, bisogna ritornare ad agire, perché è necessario farlo adesso. Io farei parlare ai miei colleghi, perché io sono da un mese nel movimento. Rispondo subito alla signora. Per me la pandemia ha contato zero, anzi, mi ha fatto avvicinare a Extinction Rebellion. Io sono entrato durante la pandemia, e si è creata una grandissima rete immediatamente. Si sono sviluppati progetti, si sono studiate azioni, che sono state semplicemente posticipate. Ok? Ma è servita tantissimo la pandemia, proprio perché ha sviluppato tutti quei momenti di scambi in rete, a cui prima molti non erano abituati, chi lo faceva già per lavoro non ha avuto grandi difficoltà, però ha attivato un altro modo di comunicare. Questo sicuramente, almeno parlo della realtà di Milano, noi arriviamo da Milano. Volevo semplicemente fare una piccola integrazione, Nicolas. La cosa bella, secondo me, di Extinction Rebellion, e lo trovate nei volantini che vi abbiamo dato, è la terza richiesta. Quindi, al di là di essere inclusivi, al di là di essere sempre in strada, il luogo dove vi aspettiamo, noi proponiamo anche lo strumento per cambiare le cose. Quindi non siamo solo un movimento di protesta, ma siamo un movimento che propone uno strumento per veramente poter, tentare di poter cambiare le cose. Quindi lo strumento dell'Assemblea Cittadine è un qualche cosa che viene affiancato alla politica. Io tengo moltissimo il rapporto con la politica, per questo prima ho chiesto all'amico di Fraides, ma che pressione avete fatto agli uffici politici del Comune. Poi chiederò, se avrò la possibilità, a chi ha ricevuto la domanda, se ha dato delle risposte, perché un conto è ascoltare e un conto è poi agire. Quindi questo. La nostra proposta, che è la terza, è veramente quello che, secondo me, farà la differenza. Grazie. Bene, qualche altra domanda? Allora, io mi prendo un impegno con voi, perché poi bisogna essere attivi, giustamente, al di là di esserlo nel quotidiano, come persona che cerca di incidere meno nel proprio impatto ambientale, anche se poi la ragazza tedesca dice, ma io mi sono accorto che già come persona sforavo la mia quota di emissioni di CO2, perché la Germania emette talmente tanti CO2 per la lignite, che suddivisa per la popolazione ero già fuori. Quindi non potevo incidere veramente, no? Ed essere al di sotto. Allora, io mi prendo un impegno al di là del come, e vi chiedo se siete disponibili a venire nelle scuole di Villa Santa a portare la vostra testimonianza. Sì, assolutamente, sì. Allora, qui ci sono del... No, non c'è l'assessore, perché è alla... Però, allora, io mi prendo questo impegno ed è un primo passo per magari fare qualcosa di concreto. Grazie mille. Va bene. Grazie. Allora, una domanda. Sì, io volevo fare una domanda alle amiche e agli amici di Fridays. Nel film che abbiamo visto si nota una cosa, soprattutto quando si riprendono le immagini di Ende Gelende in Germania, ma anche Extinction Rebellion propone la disobbedienza civile e l'azione diretta non violenta di massa in strada e cioè portare un concreto fastidio alla macchina della continuità del business as usual e lo propone come strumento strategico. Mi piacerebbe sapere se Fridays sta ragionando sulla possibilità di passare dalla manifestazione che è importante perché fa opinione, fa egemonia, tutto quello che volete, però io non ho la vostra età, sono un po' più vecchio, manifestazioni ne ho fatte un boato e però è dal 92, dal vertice di Rio, che si parla di clima. Siamo arrivati ad oggi e subiamo le delusioni di Glasgow e così via. Quindi io francamente sono in XR perché ritengo che devo sedermi in piazzale Loreto e non alzarmi per una settimana e bloccare la città fino a che ci saranno obbligati a darci delle risposte e a venirci in conto. Esattamente come è stato fatto in Inghilterra, come fa Ende Gelende attaccando le installazioni dell'industria fossile. Ecco, mi piacerebbe se... mi rendo conto che siamo a Villa Santa e non siamo al centro del mondo, per carità. Oppure sì, oppure sì, avete ragione. Però mi piacerebbe lo stesso parlarne con voi, insomma, di questa cosa perché io ci credo molto. Grazie. Sì, ok. Allora, inizio col dire che Fridays nasce come movimento studentesco e il gesto è quello di saltare la scuola per manifestare per il clima e non studiare il passato se poi non abbiamo la possibilità di vivere un futuro degno di essere tale. Noi rispondiamo chiaramente a uno statuto nazionale, quindi a Fridays Italia, che poi a sua volta risponde a Fridays Globale. Quindi abbiamo delle regole come movimento globale e non sono previste azioni di disobbedienza civile. Ci sono state azioni, fondamentalmente parlo delle critical mass, che sono biciclettate per le strade dove non chiediamo dei permessi, dove in alcune situazioni non vengono chiesti dei permessi per farsi sentire, per far sentire proprio la propria voce e per esserci fisicamente e simbolicamente. però tendenzialmente il nostro modo di agire appunto è quello di manifestare in piazza. Va bene? A posto così. Grazie mille della vostra testimonianza. Facciamo un change. Grazie. Facciamo un cambio panel, come si dice, con le serie che fanno queste cose. e quindi chiamo sul palco la Gabriella Garatti, vice sindaco, assessore all'ambiente e ecologia. Avete parlato con il Comune di Villa Santa? Fridays? Avete parlato con il Comune di Villa Santa? Avete mandato le vostre istanze? No, non ho fatto. Ok, allora ti arriveranno delle istanze di Fridays. Prego. Poi chiamo qualcuno... Ecco, Enrico Montagnier. Un consigliere di Villa Santa è uno dei compagni. Sì, Nicola Storri, però non c'è stasera, non lo vedo. Prego. Enrico Montagnier, che è il presidente del Gais di Villa Santa. Poi chiamo... Roberto? Va bene? Vieni. Vieni. E se vuole... Tuia Lab, Alberto, Stefania, raccontate quello che fate sul territorio. Non c'è molto... Mi sembra importante dare anche delle indicazioni su quello che viene fatto nel nostro paese, cioè nel nostro picco, no? È vero, non siamo il centro del mondo, ma qualcosa si fa, no? Si spera. Allora, prima cosa, riceverai loro, le loro istanze, vedremo cosa si potrà fare. Idem, anche Stingshaw Rebellion sicuramente avrà qualcosa da dire, no? Alle istituzioni di Villa Santa. Niente, allora, Villa Santa. Ecco le domande. Vado io o andate... Allora, vai... Allora... All'interrogazione? Sì, certo. Non vedevo l'ora. Niente, allora, come i Villa Santa? Progetti? Cosa sta facendo per l'ambiente, per questa emergenza climatica, no? Abbiamo visto che siamo a un punto critico, ma è inutile, lo sappiamo tutti, al di là poi dei social, che uno li apre e gli viene male, perché magari c'è un posto su Greta e vede tutta una sfizza di insulti, eccetera, e dice, ma stiamo impazzendo. Al di là di quello, però sappiamo, siamo tutti consapevoli che siamo in una situazione in cui non è più possibile rimandare. Ecco, la politica locale, perché se parliamo di quello non abbiamo qui né il Presidente del Consiglio, né l'Ursula von der Leyen, ma abbiamo Gabriella Garatti, che non per sminuirti, ma voglio dire, esatto, la nostra Ursula von der Leyen, ecco, ecco, cosa fa il Comune di Villa Santa per far fronte a questa crisi, a questa situazione? Ma, abbastanza rapidamente, le attività fatte, una delle cose più significative, penso che sia stata l'ultima approvazione del piano del governo del territorio, dove lì si è deciso di ridurre in maniera consistente il consumo di suolo, per cui una delle richieste che emergevano, insomma, prima, era questa, nel 2019 è stato approvato un piano di governo del territorio dove, appunto, c'è una riduzione a essere fortissima, adesso non me lo ricordo quanti metri quadrati erano, però era molto significativa rispetto al piano precedente. e questo chiaramente è stata una cosa abbastanza importante. L'altra questione è che questi spazi verdi sono vincolati, cioè non è possibile costruire nulla, neanche l'amministrazione comunale può sfruttare, utilizzare questi spazi, che sono gli ultimi rimasti, perché Villa Santa ha un territorio di 11.000 chilometri quadrati e quindi è molto molto urbanizzata. Associato a questo abbiamo anche fatto un piano della ciclabilità, cioè un piano della ciclabilità vuol dire che si sono studiati quelli che sono i percorsi di collegamento tra i comuni, che è l'aspetto più importante, perché lì ci sono i punti di vera pericolosità, perché il problema è che la gente non va in bicicletta perché ha paura di essere investito fondamentalmente e ne hanno ben donde da questo punto di vista, c'è un problema di pericolo sicuramente. Quindi gli aspetti formali, diciamo, l'altra cosa importante che abbiamo fatto secondo me è avere aderito al progetto Equosacco e quindi avere ridotto del 50% la produzione di rifiuti che poi devono essere portati in al brucio come dire termovalorizzatore sostanzialmente quindi anche quello è stato un dato molto importante si sono ridotti anche le quantità non tantissimo però quello è molto importante quindi è migliorata la raccolta differenziata recentemente siamo andati a fare un controllo anche su come viene fatta la raccolta differenziata della plastica ok io sono rimasta stupita della come dire bassa percentuale di presenza di bottiglie di plastica allora la raccolta differenziata della plastica del multipack era prevalentemente con si può dire film quindi mi aspettavo di trovare diverse bottiglie di plastica invece è una parte minima e la nostra raccolta è buona nel senso che c'era solo il 13% di parti che non dovevano esserci quindi devo dire che si può ancora migliorare perché dovremmo arrivare al 5% questa parte si può ridurre ulteriormente quindi bisogna fare una campagna con i cittadini da questo punto di vista per migliorare ulteriormente questa frazione però già se la facciamo bene è importante vedremo stiamo lavorando per avere l'altra casetta dell'acqua comunque stiamo lavorando in maniera tale che ci siano queste motivazioni nelle mense scolastiche un'altra attività che viene fatta con il gruppo pellegrini si usano stoviglie e non si usano come si chiama l'usegetta e anche nelle mense scolastiche c'è la brocca dell'acqua non si usano le bottigliette di plastica quindi anche questo è un elemento di ridurre dove è possibile i consumi dove abbiamo cambiato tutte le luci abbiamo aderito alla Comsi per cui tutta l'illuminazione pubblica è passata a led con un risparmio del 68% di energia e questo è un dato molto importante è un aderendo ad una si chiama una convenzione dei Consi comunque il comune continua a pagare più o meno la stessa bolletta però c'è questo investimento che viene fatto e si riduce però il consumo di energia elettrica l'ultimo intervento che è stato fatto anche abbiamo cambiato tutte le lampade della palestra del palazzetto dello sport quindi sono passate si sono rotte tre lampade abbiamo deciso invece che sostituire tre lampade su una una quindicina e sostituiamole tutte le abbiamo messe a led questo vuol dire anche in questo caso fare un abbassamento notevole da questo punto di vista abbiamo fatto una convenzione con il GSE che è l'ente che ci può aiutare e abbiamo fatto quella che poi chiamata l'impronta energetica dei principali building palazzi dell'amministrazione comunale e adesso con loro possiamo fare una riprogettazione e quindi per poter sottolineare le caldaie cioè andare a migliorare l'efficienza e ridurre anche qua i consumi sono investimenti che in questo momento sono stati fatti a livello di progettazione dal punto di vista della partecipazione invece che un altro elemento insomma anche questo abbastanza importante quello che abbiamo fatto è quello di costituire un tavolo per l'ambiente ecologia in questo modo più persone che sono sensibili hanno competenze sull'argomento possono trovare un interlocutore all'interno del comune questo abbiamo fatto questo regolamento l'anno scorso e a luglio dell'anno scorso abbiamo costituito il tavolo ci sono una quindicina di persone molte sono qua presenti l'avevamo annunciato proprio in questa sede forse più o meno a novembre che era la festa dell'albero in occasione di un evento di Tuya Lab e questo gruppo si è trovato inizialmente si siamo trovati come come dire sempre a distanza perché era impossibile fare riunioni in questo ultimo anno però siamo riusciti ad arrivare ad organizzarci anche per sottogruppi quindi c'è un sottogruppo che si occupa di energia e un sottogruppo che si occupa di biodiversità in più stiamo cercando di coinvolgere i cittadini su quello che è il bello di Vila Santo e quindi fare iniziative per tenere pulita la nostra città che già spendiamo un sacco di soldi in cestini e in interventi manuali però purtroppo molte persone ancora non hanno questa cura della 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 gestione dei propri dei propri rifiuti e quindi i nostri cestini sono spesso purtroppo il 5% della nostra produzione di rifiuti arriva ancora dai cestini e molti di questi rifiuti sono rifiuti domestici questo per dire che comunque si paga si pago due volte ecco queste sono le cose come dire velocemente che sono state fatte le quelle più più significative poi chiaramente tutte le nuove costruzioni che vengono fatte devono essere pensate come si dice nzeb cioè devono essere prodotte a zero impatto costruite progettate a zero impatto ambientale nel maggior modo possibile ecco questo è a grandi linee quello che abbiamo fatto io volevo partire un secondo da quello che dicevi tu Stefano e allora intanto ringraziare quello che allora conosco l'attività di XR a Milano conosco anche grazie a Nicola insomma tutto il lavoro che voi state facendo a Monza e volevo riprendere un po' il tuo invito nel senso che io ho un figlio di 14 anni che ha tentato due volte di fare sciopero per seguirvi e poi in realtà la sua classe si è trovata proprio pronta anche dal punto di vista a mio parere di informazioni e di cultura per poter fare manifestazione insomma sono trovati in classe quindi l'invito l'invito che lui in realtà è il primo anno delle superiori però l'invito di riprendere perché in effetti mi rendo conto che la pandemia ha probabilmente un po' congelato la situazione il contatto con le diverse scuole e fare divulgazione è importante però mi viene da dire se siamo forse a questo punto è anche perché per tutta la pressione che avete fatto cioè penso a quello che ha detto Cingolani in apertura della Coppiglasgo quando diceva è importante che i ragazzi passano dalla pressione dal movimentarismo alla proposta mi sembra veramente un po' spurio fare un'osservazione del genere nel senso che se siamo arrivati a questo punto invece se il tema ambientale ha questo peso è proprio per la pressione che arriva dai movimenti studentestici o dai movimenti che sono riusciti forse a ripulirsi un po' dal vecchio ambientalismo e fare altro quindi mi viene da dire un po' spurio ripeto pensare che adesso il tema sia fateci voi le proposte io penso che in questo momento sia il momento in cui sia chi fa politica quindi fa le politiche e chi invece fa le anche anche i makers tra virgolette chi fa le politics in qualche modo sia il momento in cui porre azione e mettersi in movimento ecco forse allora due pensieri che mi vengono perché allora uno dei temi che in qualche modo anche io e Gabriele siamo partiti anche nella nostra attività iniziano a fare divulgazione a Villa Santa con dei primi eventi in cui abbiamo parlato è venuto Gramenos a Mastroieni avevamo un climatologo esatto un climatologo in Galbiati insomma qui a Villa Santa che ci ha aiutato molto in questa prima fase poi a un certo punto ci siamo resi conto che dopo cioè abbiamo quindi è stato ci è stato un po' di scontro questa cosa ci ha dato forza poi però il rischio allora questa sera a mio parere l'ora in qualche modo dice anche dei pochi ragazzi che sono qua nel senso che probabilmente in altre fasce rare ragazzi sarebbero state anche di più però ecco il rischio che noi un po' sentiamo è quello di parlare sensibili ai già sensibilizzati e quindi in qualche modo non voi parlo di noi di chi fa politica e allora in questo senso mi viene a dire ci stiamo un po' portando cioè anche da chi fa politica ci stiamo un po' spingendo stiamo cercando un po' di spingere l'acceleratore su chi fa su chi fa e quindi su chi fa politica e su chi li mette in pratica non a caso è una cosa molto bella che si è nato questo tavolo che in realtà si sta focalizzando sul fare e si sta focalizzando sul fare poi ci sarà il momento in cui il tanuvolo con autonomia avrò voglia di uscire e parlare per sé insomma però ha già individuato due canali due temi uno è il tema verde e l'altro invece è il tema energia sarebbe bello poter pensare di riuscire a finalmente arrivare a una comunità energetica qui a Villa Santa questo lo dico da cittadino più che da politico stiamo cercando di dotare anche la cittadinanza di strumenti per fare e allora adesso gireremo nelle diverse zone Villa Santa San Fiorano Sant'Alessandro in centro per parlare del fatto che adesso c'è un regolamento dei fatti di collaborazione che è uno strumento di sostenibilità orizzontale per stimolare chi ha voglia di fare sul territorio chi ha voglia di fare di occuparsi di beni comuni per per mettere in campo azioni che abbiano che spesso poi intercettano diverse aree perché ormai è in qualche modo forse il movimento i vostri movimenti insomma ci hanno fatto capire molto meglio che sociale ambientale e culturale sono molto uniti sono interdipendenti che quindi in qualche modo se si parla di ambiente non si può parlare di sociale e se si parla di cultura non si può parlare di ambiente di sociale insomma io sono stato settimana scorsa nelle case popolari di Don Primo Mazzolari ed è difficile fare politica ambientale in quelle case montagne di rifiuti fuori però mi viene da dire il tema sociale e il tema ambientale vanno stretto uno con l'altro insomma per cui ecco due pensieri che mi vengono così ragionandoci adesso con voi posso far subito la domanda? ok innanzitutto volevo ringraziare Gabriella ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha dato il contatto per l'invito che ho dato alla dirigente quindi grazie cosa hai parlato con la Dele? forse ho parlato con una sua collega ah allora ok ah ok perfetto esatto io vi devo dire la verità cioè io stasera sono rimasto molto deluso ok prima di tutto siamo partiti male perché come è finito il film 5-6 persone sono andate via che erano i giovani io non credo che sia un problema di orario perché manchino i giovani qui quindi la mia domanda è questa noi in XR ci stiamo chiedendo se il nostro sistema di comunicazione sia corretto e se sia efficace voi ritenete di avere un problema di comunicazione con i vostri cittadini cioè come tentate cioè perché la sala è vuota stasera su questo tema ok e sicuramente qui ci sono persone già sensibili al problema cioè il pericolo appunto che diceva lei di parlarsi addosso è reale perché qui penso che si sia tutti allineati ok quindi non avete un problema di comunicazione con i vostri cittadini e se sì se ritenete di sì se state adottando degli strumenti o se pensate di modificare qualche cosa per portare la gente in sala grazie io penso che allora è un tema complesso però a mio parere è anche complesso il tema della crisi climatica nel senso che c'è un filosofo inglese che parla di del tema dei macro oggetti cioè sono allora non a caso questo documento questo documentario molto molto bello però è molto intriso di senso di colpa e dal senso di colpa si scappa dal mio punto di vista e allora forse iniziare a ribaltare un po' la questione come in qualche modo a mio parere state facendo voi e farlo passare dal senso di colpa a possibilità forse è già un tema per cui iniziare a ingaggiare un po' di più la gente perché la gente scappa dalle cose grosse che fa un po' fatica a padroneggiare per come la vedo io poi c'è il tema del quotidiano nel senso che io e Alberto siamo arrivati qua oggi ma abbiamo perso dunque ci è stato cancellato un treno arriviamo entrambi da Milano ci è stato cancellato un treno al Besanino e abbiamo poi preso un altro treno che doveva andare a Lecco che si è bloccato e quindi io e lui abbiamo trovato strade diverse per metterci due ore per arrivare qui a Villa Santa quindi quando uno si parla di temi ambientali ma poi nella quotidianità la modalità no questo è l'impatto questo è l'impatto del quotidiano dal mio punto di vista un cittadino preferisce vedere cose concrete piuttosto che e poi dice poi magari ne parliamo però per come la vedo io è importante e questo è una responsabilità della politica iniziale ad ampliare il canocchiale di visione non so come dire ecco perché penso che il tema del poter fare a mio parere è l'elemento cardine per cui puoi dire apriamo la comunicazione e sensibilizziamo anche maggiormente sul tema anche culturale del tema climatico insomma perché e ci sono tanti testi interessanti da questo punto di vista cioè non è così incompatibile il fatto che la cura al tema ambientale non possa voler dire avere più agio nella propria vita quotidiana Michael Mann recentemente è molto bello il libro che ha scritto ha detto attenzione perché è cambiato il paradigma allora prima il tema di chi diceva che l'aspetto climatico non esisteva questa era l'arma no? il negazionismo tra virgolette ok non esiste il tema climatico pandonie adesso invece la strategia è un'altra è dire attenzione è una cosa molto grande è una cosa che richiede tantissimo tempo e quindi il tema adesso è o diciamo l'incapacità di poter fare azioni concrete oppure il tema del tempo a mio parere Glasgow è in qualche modo un po' oppure che dipende tutto da te nella tua cambio oppure dipende tutto da te nei piccoli comportamenti sì allora nel senso che sono due cose volevo intervenire allora uno sul fatto che non credo che la fascia oraria sia sbagliata per un pubblico diverso non è quello non è assolutamente no quello che io forse vedo nel mio lavoro che è quello che forse ecco forse non ci impegniamo molto ad ascoltare tutte le istanze che ci arrivano tutti forse siamo bombardati da stimoli messaggi e quindi la tendenza è quella di oddio cioè anche questo documentario è così nel senso che ci butta addosso talmente tante informazioni tante problematiche perché poi a 360 gradi non è solamente il problema delle emissioni CO2 si parla di agricoltura si parla della plastica negli oceani nel senso che il rischio è di uscire da qui e dire non posso fare niente cioè è talmente enorme questo problema che io non posso incidere questo è il limite di questo documentario non è quello come dici tu che ti da almeno io per il mio punto di vista non è il senso di colpa è quello che ti fa sembrare il problema dell'emergenza climatica assolutamente ineluttabile cioè non posso fare nulla né attraverso i movimenti né personalmente invece secondo me sì però ci deve essere lo scarto che è quello di magari fermarsi ad ascoltare delle persone quello deve esserci e io questo purtroppo lo vedo sempre meno sempre meno voglia forse di impegnarsi ad ascoltare gli altri quello che hanno da dire cioè dei ragazzi magari che hanno iniziato da un anno a dire è inutile che io mi metta a studiare se poi non ho un futuro cosa studio per fare questo è il problema è quello di una di una scuola a Villa Santa che non è presente è quello di un oratorio che a Villa Santa non è presente questo è il problema ma non perché deve essere presente qua cioè non mi interessa deve essere presente nelle istanze nelle in quello che ci riguarda tutti questo è la cosa importante finché ognuno di noi procederà nella sua vita con guardando il proprio binario non cambieremo nulla ieri sera io l'ho detto alla riunione il rischio col guys il rischio di essere lì tra di noi e dirci le solite cose ma se non c'è la volontà degli altri di venire a dire a dire che la pensano diversamente ad ascoltare e questo è il problema secondo me che ci siamo problemati di comunicazione c'è nel senso che la difficoltà è proprio quella noi come amministrazione comunale siamo fermi da due anni quasi non usciamo con il nostro giornalino quotidiano il nostro giornalino informatore però il problema della comunicazione stiamo sopperendo con i social poi c'è il discorso delle iniziative noi stiamo ragionando adesso con appunto l'assessore alla cultura di mettere nella programmazione della cultura degli eventi che riguardano l'ambiente inutile che ci siano delle programmazioni parallele si fa una programmazione unica e si dice nell'arco dei 12 mesi mettiamo uno spettacolo per questo tema per questo tema c'è il che ne so il 27 di gennaio che da anni si celebra però ci sono anche delle giornate che riguardano l'albero che riguardano l'acqua che riguardano il pianeta e ci sono tanti spettacoli tante iniziative e bisogna fare usare la cultura per far crescere diciamo così no l'interesse questi sono temi che riguardano anche le scuole per cui anche sulla scuola in collaborazione con Ombrianza Acqua in collaborazione con CEM si fanno dei corsi e si portano questi temi tra i ragazzi e quindi anche lì si cresce si fa crescere la cultura e l'interesse tra i ragazzi questi sono gli elementi sempre in accordo con la programmazione scolastica ovviamente perché questi sono gli elementi che così questa è una comunicazione efficace che arriva a queste persone oggi hanno fatto un'iniziativa i giovani i ragazzi che studiano francese hanno fatto il come si chiamano la biblioteca degli alberi quindi hanno proposto quale potrebbe essere la Villa Santa ideale con frasi in francese attaccate agli alberi dei giardini di Villa Camperio piuttosto che in altri luoghi a scuola queste cose si stanno però questa cosa chi la sa di questa cosa chi la sa qui dentro su facebook hai una figlia ok una poi qualche di un altro di Villa Santa che lo sa che è stata fatta questa cosa ok allora questo è il problema la comunicazione di quello che viene fatto non si sa non si non si comunica tra le varie realtà la comunicazione è avvenuta nel senso che l'insegnante che ha fatto questa cosa ha fatto un post su facebook è chiaro capito ma non posso andare a vedere la pagina dell'insegnante Gabriella deve essere pubblicata noi siamo qua diverse generazioni abbiamo dei giovani di fronte finalmente possiamo parlarci loro ci stanno dicendo delle cose e noi possiamo rispondergli cioè è questo che serve la comunicazione anche intergenerazionale ma quello che ti sto dicendo è che si devono usare le occasioni perché queste esperienze vengono vengono conosciute sto diventando troppo polemico scusate è quindi è diventando troppo polemico scusate ma non è una questione di polemica è una questione di sono d'accordo con te che le esperienze vanno fatte conoscere i canali sono quelli che sono il giornale magari questa cosa non te la pubblica perché non fa scandalo cioè o c'è una comunicazione positiva e anche delle esperienze positive ma è difficile farla passare quello che si può fare è che ognuno di noi che vede delle cose belle fate bene lo divulghi il più possibile questo è l'azione che dobbiamo fare e su Villa Santa se darei la parola anche Tulia Lab sta organizzando questa cosa di seminare arte e credo che questa cosa sia deve essere valorizzata partecipata è molto importante se posso dire una cosa in effetti mi pareva interessante sentire loro perché loro stanno provando a fare proprio quello però allora un'osservazione mia personale cioè a Villa Santa c'è ancora molto autoreferenzialità e c'è un po' e c'è dal mio punto di vista un problema che nessun profeta deve essere in patria il famoso detto nessun profeta è in patria per cui se un'associazione fa una cosa allora l'altra ancora con difficoltà partecipa penso al festival delle geografie una cosa meravigliosa eppure quanti i villasantesi c'erano stavamo esatto Lorena cioè stavamo ragionando sul fatto che i villasantesi sono pochi e lì si è parlato di tanti temi ambientali cioè il tema della plastica e di come di come gran parte del problema della plastica se in realtà ha inquinamento inconsapevole non consapevole e io vedo in sei villasanti a sé dibattiti sul fatto ah ma il problema della plastica è un problema di inquinamento no non è così è diverso e la plastica ormai ce l'abbiamo dentro nell'acqua ce l'abbiamo nel nostro corpo in tantissime quantità il tema delle macro aree delle oceani di plastica è servito mediaticamente per comunicare però in realtà noi la plastica ce l'abbiamo ovunque nel corpo però e quindi farebbe noi stiamo mettendo le mani nei rifiuti per vedere quanta plastica produciamo e come la produciamo c'è poi tutto il tema della riduzione a monte chiudo dicendo che in realtà è un tema di clima ok di clima in questo caso cioè comunicazione è anche il clima comunicativo che si crea in paese per come mi sto facendo io un pensiero perché in realtà purtroppo Villa Santa è un tema veramente degli arroccamenti io vorrei provare a partire dal fare cioè continuo a insistere su questa parola dal fare perché se iniziamo a fare cose belle allora io vado in stazione e vedo il nostro meraviglioso quadro comunicativo di tutti gli eventi che ci sono a Villa Santa a Villa Santa c'è un botto di eventi tantissimi eventi però il tema però il tema è quanti partecipano a tutti gli eventi che ci sono quanto rischiamo di diventare eventificio no perché questa è l'altra domanda che ci stiamo ponendo è l'evento infatti non si deve parlare di eventi no 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 esatto esatto è questo il problema perché oramai siamo abituati a parlare ci sono certe zone e poi c'è un altro tema ancora il tema di come si vive Villa Santa ci sono altre zone che sono ancora zone di dormitorio Santa Alessandra dove vivo io è una zona dove ci salta la mattina si va a lavorare si torna la sera si va a casa a dormire quindi di nuovo il tema di cos'è Villa Santa dal punto di vista di vita di vita sociale ci interroga a mio parere rispetto al tema che poni tu comunque domenica facciamo la giornata del verde pulito chi volesse attivarsi ci siamo c'è una domanda c'è una domanda non è proprio una domanda è più un intervento che ci tenevo a fare io diciamo sapevo di questa iniziativa delle parole appunto cioè organizzata imparate più forte scusami dalla prof di francese l'iniziativa organizzata dalla prof di francese perché mio fratello è uno degli studenti che ha partecipato e l'ho sentito dire da lui in casa ma l'ho identificato solo adesso effettivamente e quindi so che la comunicazione è un problema grande e che riscontriamo anche noi in Fridays tutti i giorni è una cosa molto complessa perché è difficile arrivare a tutti noi principalmente utilizziamo i social per raggiungere più persone possibili ma perché diciamo che il nostro scopo principale è quello di raggiungere più persone giovani possibili in modo da insomma avere tanta partecipazione agli shopperi in generale e alle iniziative che organizziamo sul territorio però anche prima una persona appena prima della proiezione mi diceva che bisognerebbe trovare tanti altri modi per poter comunicare con più persone possibili e quindi volevo condividere che anche secondo noi è una cosa difficile importante da discutere e che chiunque abbia proposte così può farcele e anzi chiediamo di fare proposte per avere una comunicazione più vasta e niente questo noi per esempio facciamo volantinaggio ultimamente lo facciamo meno spesso ma comunque ci impegniamo a portare avanti anche questa cosa però di sicuro non è abbastanza quindi niente grazie organizziamo una giornata dove appunto diamo spazio a tutte queste istanze a queste ai movimenti ai giovani riusciamo a farlo tutti insieme parlo anche a quelli presenti che non hanno ancora parlato riusciamo a riusciamo a metterci insieme per una volta a fare qualcosa per dare una risposta a loro perché sono loro che ci stanno parlando sono loro che ci stanno dicendo e ci state rubando il futuro cioè è questo riusciamo a farlo tutti insieme penso di sì bene lo progettiamo e si fa nel senso noi questa giornata di domenica l'abbiamo concordata in genere con i giovani di Croce Rossa che loro hanno questo obiettivo di occuparsi dell'ambiente l'altra volta c'erano no no però io intendo una questione di comunicazione nel senso che loro ci stanno dicendo in questo momento che anche loro al di là delle nostre cose si si ci stanno dicendo abbiamo anche noi un problema di comunicazione ci riesce difficile arrivare ai nostri coetanei ma non solo ai nostri coetanei giusto? questo è quello mi sembra il succo quindi riusciamo noi a dargli una mano in questo prima ho detto mi prendo l'impegno di organizzare un incontro a scuola però se ci mettiamo tutti insieme riusciamo a fare una cosa magari anche più efficace cioè non solo nella scuola media ma aperta un po' tutta la cittadinanza così ognuno di noi magari fa la sua e quindi anche personalmente si spende per avere anche persone che non sono sempre le stesse per non ritrovarci sempre tra di noi già sensibili ai vari temi ma anche a quelli che magari dicono ma chi? Greta quella la gretina cioè adesso sto esagerando ma è per per un po' fare qualcosa ok il tavolo dell'ambiente può ospitare la progettazione di questo ok impegno preso ok dopo vi do il numero della vice sindaco l'abbiamo fatto apposta chiedetela a me sentiamo qualcuno che due per due esperienze che c'è due persone che fanno che stanno facendo mi senti Alberto sì ok ci racconti un po' Tuya Lab cosa sta progettando cosa sta facendo so che abbiamo un progetto insieme che è quello del 26 anzi vi do appuntamento qua all'Astrolabio proiezione del cortometraggio Alberi meraviglioso Stefania mi dice sì con la testa e io ci credo non l'ho ancora visto io ma lo vedrò a breve e tante altre cose insomma mi sembra che il loro il loro percorso sia sia speciale se ce lo racconti sì innanzitutto voglio dire che Tuya Lab è nata proprio con diciamo per lavorare su trambiti ben precisi cultura ambiente e benessere della persona che poi in realtà si racchiudono si racchiudono in un'unica come dire scopo obiettivo quello di cercare di portare il più possibile una maggiore consapovolezza e rispetto nei confronti dell'ambiente e delle persone questo detto molto in sintesi noi da anni rispetto al discorso ambientale portiamo abbiamo fatto delle iniziative sempre legate al tema arte e cultura intesa come progettazione e presentazione di documentare piuttosto che di rassegne anche durante appunto questo periodo perché ormai anni che veniamo qui per la festa dell'albero ad esempio proponiamo sempre un documentario o un evento particolare ma questo perché riteniamo importante cercare di sensibilizzare le persone attraverso appunto questi strumenti cinema arte teatro e quant'altro proprio per cercare nel nostro piccolo di creare più consapevolezza come ho detto più sensibilità nei confronti non tanto della natura come paesaggio come bellezza come momento di benessere fine a sé istante ma proprio per quello che anche abbiamo visto nel film per quello per quello aiuto scusate per cui state lottando state impegnando questa è una cosa bellissima insomma ognuno a suo modo sta portando avanti nel mondo penso un momento molto si dice di cambiamento ma il cambiamento innanzitutto parte da noi parte nella nostra quotidianità da un gesto privato dalla della propria del proprio rapporto con la natura con l'ambiente con le persone però parte anche dalla responsabilità che ha un'associazione un assessore un consigliere comunale cioè tutti abbiamo un ruolo importante c'è nessuno escluso e voi singolarmente e come movimento avete anche voi un ruolo importantissimo perché dobbiamo veramente creare questa massa critica no di cambiamento anche se siamo in 40 qui stasera non so ma questa è questo momento importante perché i pensieri perché le energie si trasmettono partono viaggiano anche questo è un modo di comunicare noi abbiamo scelto anche perché è un po' il nostro passato quello della cultura dell'arte eccetera di arrivare di arrivare a sensibilizzare sull'ambiente sul degrado ambientale eccetera anche perché l'uomo ha sempre dialogato con la natura no infatti questo ultimo progetto nostro pensato nel tempo della pandemia si chiama proprio seminare arte dialogo tra uomo e natura ma l'uomo ha sempre dialogato fin dall'antichità e da sempre è stata la natura fonte di ispirazioni per il sacro per l'arte poi recentemente del secolo scorso per il cinema no per cui riteniamo per quello che come dire che è nata tu insomma per l'aspirazione che abbiamo di portare in campo progetti in questi settori in queste aree ad esempio una cosa che porteremo avanti poi chiudo mi dicono di stringere magari in primavera mi viene in mente queste passeggiate nei boschi meditative nel parco proprio per riappropriarci del contatto con la natura allora i giapponesi forse già una ventina di anni fa di più hanno inventato il bagno nella foresta pagato dallo Stato dall'asla della situazione allora per riappropriarsi del contatto e delle energie della natura ma questo da un lato è bello da un lato ti dice ma noi abbiamo proprio interrotto ma da tanti anni questo rapporto con la natura siamo completamente slegati e da lì che c'è un problema di degrado ambientale di degrado anche psicologico chiudo dicendo che abbiamo queste due importantissime manifestazioni eventi ma non importantissime perché le abbiamo fatto noi anzi tre mi dicono giusto innanzitutto la mostra seminare arte che parte venerdì e veramente vi prego di diffondere perché lì sono saranno lì saranno esposte delle opere veramente particolari dove si coglie veramente il senso che l'artista vuole come dire vuole vuole esprimere il concetto della natura per l'artista e la speranza di riprendere questo dialogo che dicevo prima e è una mostra che sorprenderà io però l'ho visto solo delle foto però vi garantisco che è un arricchimento e l'altro appuntamento all'Astrolabio appunto venerdì prossimo il 26 dove viene presentato questo film Alberi da un giovane fotografo e una giovane attrice sono andati a visitare tre regioni in Italia e nel documentario si parlerà degli alberi monumentali in particolare un albero che ha 300 erotti anni della valle poi di installazioni artistiche nel Trentino e infine un altro bosco in Toscana dove anche lì non c'è solo una questione di bellezza di di benessere ma stanno studiando per cui proprio un esperimento scientifico dove stanno praticamente studiando la reazione degli alberi rispetto al cambiamento climatico ma lo fanno in collegamento con foreste e boschi di altre parti del mondo per cui è anche questa una serata di stimolo e di dibattito poi per i bambini ci sarà invece un incontro in biblioteca il 27 perché è importante già subito parlare di educazione ambientale già ai bambini piccoli insomma abituarli a tutto una certa anche comportamento e comunque viene presentato questo libro fae fiaba dove c'è un albero protagonista basta scusate se mi sono dilungato grazie grazie nel racconto bene allora ultima esperienza territoriale il GAES Francesca Marotta Francesca Marotta io sono Enrico il presidente da pochissimo tempo da qualche mese da alcuni mesi insomma meno di un anno devo dire che appunto sono subentrato alla dirigenza precedente perché c'è stato anche un momento così di di stanca un po' per quanto riguarda la gestione di questo gruppo il gruppo il gas è un gruppo eco solidale è un gruppo di acquisto formato da una trentina di famiglie che si sono unite insieme negli anni nel tempo per diciamo acquistare probabilmente per acquistare probabilmente cibo quindi diciamo alcuni alcuni tipi di merci utilizzando però canali diversi dalla distribuzione della grande distribuzione quindi appoggiandosi a piccoli produttori facendo con questi produttori anche dei patti proprio per avere la possibilità che questi produttori possano lavorare avendo un eco salario e avendo un eco guadagno e nello stesso tempo fornire alle nostre famiglie un prodotto di qualità e un prodotto sano e quindi diciamo che questo gruppo ha una storia molto questo gruppo ha una storia che nasce da lontano nel senso che è stato fondato negli anni penso 80-90 io non c'ero ancora assolutamente da ex genitori scout che appunto mettendosi insieme hanno sviluppato diciamo una filosofia di vita comune e critica anche nei confronti diciamo del consumismo e quindi col tempo hanno maturato una serie di iniziative che sono poi sfociate nella creazione di questo gruppo eco solidale in questo momento appunto siamo una trentina di famiglie ultimamente abbiamo anche difficoltà a incontrarci perché appunto per il discorso della pandemia non riusciamo a trovarsi nella nostra sede e quindi facciamo degli incontri online però chiaramente il rapporto come penso anche per tante altre situazioni ci manca molto e soprattutto non ci permette di diciamo anche incrementare questa confidenza questi rapporti personali soprattutto nei confronti delle nuove famiglie che di anno in anno decidono di iscriversi al nostro gruppo posso dire una cosa nel senso che io ieri ho partecipato per la prima volta alla riunione del Gais sono un nuovo entrato e mi è sembrato di capire che anche in questo caso ci sia una difficoltà di comunicazione di apertura verso l'esterno di riuscire a trovare nuove forze nuovi soci quindi anche in questo caso c'è una difficoltà di uscire e comunicare verso l'esterno e dire esistiamo facciamo queste cose quindi probabilmente anche in questo caso serve un quello che si diceva prima una comunicazione più efficace che non può passare secondo me solamente dal gruppo stesso ma a questo punto abbiamo capito che la comunicazione è un po' forte questo audio Giuliano va bene ok probabilmente allora serve un momento in cui tutte queste realtà si mettono insieme si incontrano costruiscono lo chiamiamo evento anche se la parola evento a me fa orrore e dove appunto insieme riescono a comunicare quello che devono comunicare come la vedo io io mi aspetto e spero che questo tema dei partiti di collaborazione invece venga colto e che possa diventare uno strumento perché è uno strumento che noi abbiamo messo un anno per aprire il comune e i partiti di collaborazione perché il tema è adesso i cittadini verranno a romperci le scatole adesso noi che siamo già molto pochi perché purtroppo sono pochi bisogna essere onesti fanno una gran fatica diciamo gli amministrativi in comune perché sono siamo in un momento di crisi totale di risorse di persone insomma di persone che possono fare azioni non è questione di soldi è questo il paradosso cioè non è un problema di soldi è un problema di persone di persone che possono mettersi e agire sui diversi progetti sulle diverse progettazioni lavori pubblici ma non solo e quindi da questo punto di vista non vi dico la paura ok però ci hanno ascoltato ci hanno anche aiutato l'absus ci ha aiutato devo dire far capire al comune che non volevamo fare quelli che disinnescano le porte del comune però ecco gireremo partiremo da lì gireremo Gabriele ed io non solo noi due a Sant'Alessandro San Fiorano faremo degli incontri in quel centro perché sarebbe bello vedere l'associazione di Villa Santa unirsi insieme fare cose insieme e pensare di occuparsi di zone di Villa cioè sto pensando l'afflato può essere diverso ambiente sociale cultura anche dire io penso che a questo punto forse anche il pensiero di dire ci prendiamo in mano un qualcosa che di interesse che noi consideriamo essere di interesse pubblico in Villa Santa lo valorizziamo e da lì facciamo comunicazione ma non solo facciamo comunicazione facendo ecco io spero che sia uno strumento utilizzato insomma io volevo aggiungere appunto che per lo meno fino all'anno scorso il nostro gruppo ha fatto delle almeno una manifestazione all'anno proprio per diciamo comunicare la nostra presenza nel territorio e soprattutto anche per così dare un assaggio anche dal punto di vista proprio del cibo alle persone che venivano a questa manifestazione che si svolgevano generalmente in piazza del comune però tieni un po' il microfono però il problema è che intanto da queste manifestazioni che abbiamo fatto non abbiamo avuto una grande adesione nonostante appunto l'abbiamo fatto in giorni di domenica quindi quando la gente è abbastanza libera e l'abbiamo fatto anche così con una serie di attrazioni proprio perché le persone potessero esserci c'è da dire però appunto che con il tempo con gli anni si nota anche una certa stanchezza nel senso che le stesse persone che hanno portato avanti questo gruppo per tanto tempo a un certo punto non vedendo dietro una partecipazione tendono un po' a demotivarsi e quindi questo è un grosso problema penso un po' per tutte le associazioni per quello che ne so io anche in generale perché appunto io conosco per esempio l'ambito sportivo e so che se mancano due o tre persone nell'ambito di una società sportiva quella praticamente non funziona più salta per radia e quindi il problema è anche proprio di partecipazione da parte dei cittadini cioè sono relativamente poche le persone che sono disposte ad impegnarsi con una certa continuità questo è uno dei problemi che hanno diciamo condizionato un po' la nostra associazione e che mi vedono qui tra l'altro come presidente perché io avrei voluto fare tutto tra l'altro che il presidente ultima domanda ultima domanda ok io vi ringrazio di tutto quello che avete detto perché senza saperlo probabilmente voi siete di Extinction Rebellion fuori troverete dei nostri volantini io sposo perfettamente tutto quello che avete detto vado in ordine nel documentario c'erano messaggi di paura di peso di disastri e noi in XR ci siamo chiesti ma dare queste informazioni avvicino o lontano alle persone infatti scusate io non mi ricordo i nomi Roberto diceva è molto più facile che uno si allontani quando vede la pesantezza dell'argomento e infatti noi a fine settembre durante la pre-cop abbiamo organizzato una mostra d'arte perché riteniamo che l'arte sia un veicolo un'autostrada uno strumento che possa cambiare il paradigma di dialogo cioè che possa portare la gente tramite grafiche ironiche comiche cioè parlare dello stesso argomento ma invertendo il modo con cui si affronta quell'argomento ridendoci sopra banalmente prendendosi in giro quindi stiamo sperimentando questi diversi modi abbiamo dei momenti di cultura rigenerativa che noi adottiamo perché sono le nostre pratiche che facciamo nelle nostre riunioni quindi vi invito prendete il Depli anche fuori e vi ritroverete esattamente nei principi di XR io non vorrei far cadere nel nulla questa serata quindi siamo concreti prima di tutto il comune ascolti se ci siano istanze da parte degli amici di Fridays ma soprattutto poi che le sposi cioè che se sono realizzabili che se sono richieste sensate si concretizzino questo ce lo aspettiamo tutti se volete se ci invitate io credo anche molto nella contaminazione quindi ci siamo conosciuti questa sera ok noi abbiamo una mostra se ci invitate io non vi prometto nulla vi portiamo la nostra mostra di artisti internazionali che hanno risposto al nostro bando a ottobre che poi si è concretizzata a fine settembre presso il Tempio del futuro perduto di Milano con le esposizioni di questa mostra perché il tema era come comunicare la crisi ecoclimatica e gli artistici hanno risposto ognuno a proprio modo con dei poster con delle grafiche ironicamente non c'è nulla di tragico quindi abbiamo proprio ribaltato il modo di affrontare il problema quindi prendiamo degli impegni subito nome Raffaello si impegna a Roberto si impegna a stasera perché come diceva Greta vi teniamo d'occhio ok ed è questo l'impegno no è vero mancano i volontari mancano gli attivisti nelle associazioni ma è proprio per questo che dobbiamo insistere è proprio perché mancano perché se non mancassero non avremmo questi problemi quindi è ovvio pesa lo so benissimo tra l'altro vi aspetto tutti al Climate Fest a Milano il prossimo giugno perché è un momento per vivere la natura per vivere il Parco Nord perché si svolgerà il Parco Nord e quindi è un contenitore adesso parlo come Climate Fest non come Extinction Rebellion è un momento in cui le associazioni si incontrano per scambiarsi idee progetti per condividere quello che è stato fatto ma concretamente nel senso che anche i relatori tra cui Gramenos Mastroieni era nostro ospite lo conosciamo benissimo stanno tutti seduti per terra nell'erba perché noi non abbiamo sedie perché noi facciamo vivere il parco perché il cinema Beltrade ci presta lo schermo e proiettiamo i film alla sera perché andiamo a vedere le lucciole perché di notte andiamo agli esperti che ci illustrano la volta celeste dobbiamo tornare ad alzare la testa a fare questo movimento banale oggi noi siamo sempre con la testa bassa per n motivi quindi fisicamente portiamo a fare questo movimento ok quindi contaminiamoci c'era una domanda qui dietro? no basta una domanda? era un riflesso incondizionato basta per favore smettetela ok chiudiamo perché abbiamo fatto niente no prendiamoci un impegno veramente ok prima di essere no non uscite di qui non vi faccio uscire no no io vi sequestro per tutta tutta la notte vi rifaccio vedere il documentario e poi rifacciamo tutta la la al dibattito allora l'impegno è quello soprattutto con voi perché vi teniamo d'occhio peccato che non ci stoppe c'è lei Emi giusto? Emi che rappresenta Fridays for Future l'impegno è quello sì sì adesso ho capito adesso vedendo lì vicino ho capito allora l'impegno è quello di trovare un momento in cui finalmente ci si possa riunire su questo tema sull'emergenza climatica e temi ambientali che abbiamo capito che sia a livello locale che comunque anche a livello extra locale perché abbiamo qui anche una una rappresentanza milanese una rappresentanza di Monza eccetera c'è una certa sensibilità ci sono dei problemi che sono la comunicazione trovare nuove persone appassionate che si possano spendere e mettere insieme le varie esperienze lavoriamo su questo ci diamo una scadenza diciamo ok non so in che modo non so come ma lavoriamo su questo siete d'accordo? ditegli no cioè non mi faccio uscire ok bene buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti